Ciao amici e ciao amiche! Oggi andremo a realizzare insieme una full face di prodotti che ho comprato su Amazon. Sono prodotti che ho comprato di recente, ma anche c'è qualche prodottino che ho comprato già qualche mese fa, l'ho messo da parte proprio per registrare questo video interamente dedicato a prodotti acquistati su Amazon. Spero che questo video vi possa interessare, vedremo insomma che riscontro avrà da parte vostra. A me è un tipo di video che interessa molto guardare, ad esempio quelli che fa Giulia Cova sulle scopertone Amazon mi piacciono sempre tanto perché Amazon è un luogo virtuale dove io acquisto tanti prodotti low cost, magari si scoprono dei brand che vendono solo su Amazon ma che sono validi, tipo De Lanci, tipo La Mora, eccetera, eccetera. E proprio grazie a Giulia Cova ho scoperto tanti prodotti interessanti che si possono reperire molto facilmente su Amazon. Ma cominciamo subito con la base, una novità, una novità proprio in senso assoluto, io l'ho acquistata recentemente, qualche giorno fa, ne sento parlare benissimo ed è assolutamente in linea con quelli che sono i miei gusti attuali in fatto di basi e cioè è una skin tint, sto parlando di questa skin tint di Revolution, la Skin Silk Luminous Serum Foundation, io l'ho presa nella colorazione F10 che al momento è un po' scura per me, però visto che adesso io comincerò ad utilizzare un po' di autoabbronzante, andiamo a incontrare l'estate un po' di soli in più, la mia pelle comunque acquisisce uno o due toni, va bene, cioè anche se è un pelo scura al momento andrà meglio tra qualche tempo, insomma. Il prodotto si promette di essere una skin tint molto leggera, molto fusionale con la pelle, anche attivi di skin care, non vi sto qui a leggere tutte le proprietà, a descrivere tutti i prodotti nel dettaglio perché sennò questo video durerà un'eternità. Vi scrivo tutte le referenze in info box e vi lascio anche i link, i link sono affiliati, lo dico per trasparenza. Che significa? Significa che a voi i prodotti costano esattamente come vi costerebbero se acquistate tramite un altro link, quindi per voi non cambia nulla. Per me invece se acquistate tramite il mio link a me arriva una piccola commissione, questione di centesimi, però mi dà l'opportunità magari di provare, di acquistare più cose su Amazon e di realizzare più video di questo tipo. Lo dico per trasparenza, appunto, quindi qualsiasi prodotto voi andiate ad acquistare partendo da uno dei link in info box, mi darà diritto ad una piccola commissione. Ribadisco, per voi non cambia nulla, per me è un grande vantaggio perché ho la possibilità di acquistare e provare più prodotti. Insomma, mi aiutate anche a proporre contenuti, se vi interessano, più contenuti di questo tipo qui sul canale. Ma comunque, bando alle ciance, allora proviamo subito questa skin tint, intanto vi dico che la boccettina arriva, non c'è la scatola di cartone ma arriva avvolta nella plastica ed è molto lussuosa perché è di vetro satinato, non è di plastica, di questo bellissimo rosa cipria, non sembra affatto un prodotto low cost, in realtà io l'ho pagato 9 euro e qualcosa, non arriviamo ai 10 euro e attenzione perché in altri siti lo rivendono a un costo maggiore, quindi io questo assolutamente vi consiglio di comprarlo su Amazon. Come vorrei applicarlo? Ne applico un po' sulla mano, anche per vedere la texture, che è abbastanza liquida, vedete che tende a colare. Lo applico da una parte col pennello e dall'altra lato con la sponge e vediamo come si comporta. Ah, è scuro, è molto scuro ragazze, mannaggia. Però, concentriamoci sulla texture. Ah, una cosa importante ragazze, è profumato, molto profumato. Chi ha pelle sensibile o è sensibile alle profumazioni, non gradisce le profumazioni dei prodotti, stia alla larga da questo prodotto perché è molto profumato. Poi, dopo la stesura, il profumo ovviamente evapora, però quando lo stendete lo percepite. Ora, a me non dà particolarmente fastidio perché non ho una pelle sensibile, però non gradisco una profumazione così forte. Mi piace quando è delicata, quando si sente appena, soprattutto nei prodotti che si applicano a contatto con la pelle. Però, ragazze, è luminosa, si vede subito, non è ovviamente coprente, cioè molto coprente, dà una leggera uniformità, bella, cioè va a creare proprio un filtro luminoso che migliora l'aspetto in generale alla grana della pelle. Devo dire che il colore, anche se è scuro, si amalgama abbastanza bene col mio tono di pelle perché è molto sheer, quindi non vi lasciate ingannare dalle colorazioni perché queste skin tint sono veramente, veramente molto sheer. Quindi, quando acquisterò un po' di abbronzatura, starà ancora meglio perché andrà a sublimare la naturale col tono ambrato della pelle. Niente male, ragazze, è bella! La sento un po' appiccicosa al momento, quindi diamole il tempo di settarsi. Adesso, invece, dall'altra parte vado con la sponge. E ovviamente c'è bisogno di molto più prodotto con la sponge perché questo è un prodotto molto liquido e la sponge l'assorbe, ne assorbe tantissimo. Però, io che non riesco proprio mai a finire i prodotti, me ne frego di questa cosa, cioè nel senso, tanto non li finisco comunque, quindi non è un problema, ne consumo un po' di più. Caspita, con la sponge è ancora più bello, ancora più naturale e fusionale. Ancora più luminoso, ovviamente perché la sponge è bella, diciamo, umida, quindi va a dare un aspetto ancora più idratato alla pelle. Allora, da questa parte con la sponge e da questa parte con il pennello. Vedo questa parte più uniformata, forse perché ne ho messo di più? Boh, non lo so, però non mi va di stratificare. Al momento preferisco questa parte qua. Guardate che bello l'effetto, ragazze. Molto bello, è idratante, secondo me va bene per le pelli normali secche, non va bene per le pelli miste, non va bene per le pelli grasse, perché mi dà l'idea di essere un prodotto idratante e credo che contenga anche degli attivi idratanti. La resa è bellissima sulla pelle, non si vede, è impercettibile, fa un bel filtro luminoso. Molto bello, ragazze. Molto bello. Adesso vediamo come si comporta durante le ore, perché oggi sarò truccata tutto il giorno, dopo devo uscire. E quindi, sì, al momento è un po' scuro. Vedete che ho il viso più ambrato, però appena prenderò un po' di colore sarà perfetta. Adesso andiamo ad applicare un correttore. È uno dei miei correttori preferiti della vita, ma io lo avevo in una colorazione sbagliata, troppo chiara per me, mi andava a enfatizzare le occhiaie. Adesso su Amazon ho comprato la colorazione più scura, che credo possa andare bene per me, e non è una novità, perché questo è uscito già da un paio d'anni. Sto parlando del NYX Concealer Bear With Me Concealer Serum. Questa volta io l'ho preso nella tonalità, spero di trovarla, beige. La tonalità dovrebbe essere la beige. Comunque, è ancora chiuso, quindi lo vado a erogare. Questo è un correttore molto idratante, molto elastico, molto idratante ve lo dico perché ad alcuni si sposta sul contorno occhi. C'è una texture molto idratante, è molto morbida. Ne va messo poco, perché secondo me ha una buona coprenza, va proprio ad ammorbidire, a piallare il contorno occhi, però se ne mettete troppo tende a spostarsi, proprio perché è ricca la texture di questo correttore, ma per i contorni occhi maturi e secchi è una panacea. Quindi, sì, direi che il colore va bene, è perfetto. E' molto, ribadisco, luminoso, vedete la differenza, va bello l'effetto, ragazzi, bellissimo, luminoso, idratante. Molte di voi avranno bisogno di settarlo con la cipria. Io ho un contorno occhi secco che va ad assorbire tutta la quota idratante dei prodotti e tende a far settare il prodotto, però io penso che questo su un contorno occhi normale tenda a spostarsi, perché è molto idratante, però è proprio questo il suo bello, cioè guardate che quant'è idratante, quant'è luminoso, è bellissimo, e con la cipria andiamo un po' a spegnere, però tranquillamente si può settare con la cipria. Dall'altra parte, ragazzi, volevo provare ad applicarlo con un pennello. Allora, ne vado a prendere un pochino e lo vado a stendere, a tamponare con questo pennello. Ne ho preso anche troppo, col pennello ovviamente rende di più, quindi ne va prelevato poco, 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 perché vedete che ha una bella coprenza, cioè non la trovo, io la trovo medio alta questa coprenza, però è veramente molto idratante, questo è il suo plus. È bello anche col pennello, ma in quantità minore ne va preso, eh. guardate che bell'effetto, è naturale, idratato e luminoso. Quindi, insomma, è sempre bello questo correttore, ribadisco, forse è un pelo meglio utilizzato d'inverno, proprio perché ha una quota idratante importante. Quindi per i contorni occhi secchi va benissimo tutto l'anno, per i contorni occhi normali, secondo me, è molto meglio se utilizzato nella stagione fredda, però, bello, devo dire. Al momento io non applico ciprie, perché voglio vedere come si comporta la base, al momento è ancora molto appiccicosa, ve lo segnalo, perché secondo me questa è una fondotinta bello idratante. Allora, vado a mettere come bronzer, un bronzer di L'Oreal che io ho acquistato su Amazon, perché semplicemente costava molto meno, questo si reperisce anche su Datico Tad, al Dm, da Cuddles, insomma, è un sacco di posti, però semplicemente costa meno su Amazon, soprattutto nei giorni in cui, guardate quanto spolvero, nei giorni in cui, uh, mamma mia, che polveroso, troppo polveroso, nei giorni in cui, eh, fanno le offerte, stavo dicendo, scusate ma mi sono proprio distratta, perché ha prelevato un sacco di prodotto, lo scarico sulla mano, a me questo bronzer non ha, non ha convinto, se vi ricordate, non ne avevo parlato bellissimo, proprio perché è troppo polveroso, io, ci sono andata in maniera delicata, eh, però, si sbriciola in una maniera incredibile questa polvere, l'effetto sul viso è molto bello, eh, non posso dire nulla, è sottile, è scrivente, è sfumabile, non mi piace perché un attimo farò un disastro, guardate, ci ho poggiato il pennello e guardate che è successo, questa roba a me non piace, proprio no, vabbè, adesso mi ha sporcato tutto, anche, mamma mia, devo stare più attenta perché non mi aspettavo tutta questa polverosità, comunque, sappiate che sul viso l'effetto è molto bello, come potete vedere anche voi, eh, quindi, insomma, adesso, mettiamo il blush, blush, anche questo, io l'ho visto in un video di Giulia Kova, lei lo ha messo tra i prodotti i suoi preferiti di Amazon ed è il Bayfree Multiglow Balm Moisturizer, Moisturizes, credo sia un prodotto coreano, non lo so, che cos'è? questo cremoso, eh, questa formula cremosa, multiuso, si scioglie, eh, col calore della tua pelle per un look fresco, rimpolpato, un velo di colore che tutti possono indossare, la formula è molto leggera, e rilascia un, un glow che dura a lungo, eh, potete indossarlo da solo, oppure stratificarlo sopra il vostro fondotinta, per un, un effetto fresco, ecco, il rimpolpato, sono molto curiosa, perché questo, secondo me, è un prodotto perfetto, ideale per l'estate, io l'ho preso nella colorazione Pink Camellia, che è quella che consigliava proprio Giulia, ed è questo, rosa, direi abbastanza, né caldo né freddo, molto neutro, molto portabile, vado a prelevarlo con la sponge, si ha proprio la texture di un balsamo, chissà se si possa applicare anche sulle labbra, c'è scritto multiuso, quindi penso di sì, ma vediamo come si comporta, uh, bello, mamma mia, che effetto fresco, bommin, belmin, e di guanciotta piena, ragazze, questo per le pelli mature, è bellissimo, bello, mi piace anche il colore, perché non è aranciato, ma non è troppo malva, secondo me è un colore che sta bene a tutti, si potrebbe applicare anche col pennello, ma secondo me con la sponge è più, più fusionale, ancora più, poi più glow, è veramente glow, non c'è bisogno nemmeno di illuminante con questo prodotto, che bello, bellissimo, è tipo un balm che ti dà, ti fa da blush, da illuminante allo stesso tempo, adesso dobbiamo vedere però se si asciuga, se si setta, perché al momento è un po' appiccicaticcio, ma ci sta, ma diamo un po' di tempo al prodotto di settarsi, comunque al momento la base mi piace molto, la base di Revolution è bella, è bella, non è sottile, ad esempio come altri skin tint che mi piacciono, però l'effetto è veramente bello, rimpolpato, sono proprio le basi che piace a me indossare d'estate, vado a fare le sopracciglia e poi ci dedichiamo agli occhi, la protagonista del trucco occhi sarà lei, la palette di Namora, la nude eyeshadow palette che è proprio il dupe palese, papale papale della I need a nude di Natasha Denona, io ho anche l'originale e adesso la mettiamo a confronto, eccole qua, eccole qua, in tutta la loro bellezza, vedete che sono identiche, quella di Natasha Denona ha solo qualche ombretto in più, perché ha tre ombretti in più, questa di Lamora ne ha tre per quattro dodici e questa quindici, quindi è solo una questione di numero di ombretti, i colori sono identici, però noi facciamo qualche swatch di comparazione e prima andremo a sbocciare quelli diciamo più iconici della palette tipo Muse di Natasha Denona e Halo di Lamora, questa di Natasha Denona e questa di Lamora, vediamo un po', differenza minima, quello di Natasha Denona è un po' più pigmentato, ha una base colore un po' più intensa, però anche quello di Lamora mi sembra carino, vediamo, andiamolo un attimo a stratificare, certo, beh, è molto bello anche quello di Lamora, però vedete che come base colore sono leggermente diversi, adesso andiamo a fare qualche altro swatch, ragazzi, ricordiamoci sempre che quella di Lamora costa un ottavo, no, un ottavo no, un sesto di quella di Natasha Denona, allora adesso andiamo, l'altro colore iconico della palette di Natasha è questo, questo marrone bellissimo, e qua il suo equivalente sarebbe Clint, questo è di Lamora, questo è di Natasha Denona, vedete come sono belli i prodotti di Lamora, io ve lo dico, io ho provato anche altre palette, a me sono piaciute, cioè per il prezzo che hanno non gli si può dire proprio nulla, ora, anche se non sono performanti esattamente come quella di Natasha Denona, ma ci rendiamo conto che costa un sesto? Vedete, quella di Natasha Denona è più intensa, ha una base colore più forte, però questo è più luminoso, sì, quello di Natasha Denona è più pigmentato, ha una base colore marrone più presente, ma questo è più luminoso, è più chiaro, è più luminoso, quindi una minima differenza poi, negli swatch si coglie, facciamo un altro swatchino, ora facciamo uno di quelli bagnati, effetto bagnato, vediamo, aspettate, perché devo capire bene quale posso swatchare, facciamo Quartz di Lamora, bello, è mia, di Natasha Denona, allora, allora, questo è di Natasha Denona e questo è della palette di Lamora, di grosse differenze, sì, quello di Lamora è un po' più metallizzato, è quello di Natasha Denona è un po' più sottile di texture, più brillantinato, in generale, fra questi swatch, ovviamente, è un pelo più intenso, è, diciamo, più, sono un pelo diversi, ma non riesco ad avere una preferenza, forse sì, un pelo di più quello di Natasha Denona, mi piacciono, come swatch, però Lamora si difende benissimo, comunque, andiamo a provare, facciamo un matte anche via, così ci rendiamo conto, vediamo che matte possiamo sbocciare, sbocciamo questo, che è quello più, sì, sì, non sono comunque uguali, uguali neanche i matte, questo è un marrone, con un reggiero riflesso malva, e Vogue, sono anche quei simili, molto simili, anche i matte di Natasha Denona e Lamora, no, al contrario, scusatemi, no, giusto, questo è di Natasha Denona e questo è di Lamora, sono molto simili, quindi sì, sono dei dupe, le palette di dupe non possono essere mai completamente identici agli originali, questo lo sappiamo, perché c'è sempre una minima variazione di colore, di texture, ragazze, secondo me, Lamora si difende molto bene a giudicare da questi swatch, comunque, noi andiamo a farci un look abbastanza neutro, naturale, iniziando da Cinnamon, questo matte rosato, che, devo dire, si comporta bene, non mi dà problemi, facciamo una cosa, per velocizzare questo video, se no viene troppo lungo, facciamo un occhio insieme e l'altro quello vado a fare per i fatti miei, poi vado a intensificare con un po' di Enigma, che è quello che abbiamo sbocciato poco fa, rimango solo nella piega, anche questo si comporta bene, sempre con lo stesso pennello, perché voglio fare una cosa alla buona, vado a prendere Eclipse, che è quello più scuro, e lo metto, vedete che anche questo si comporta bene, cioè, è abbastanza scuro, l'ho preso con un pennello ampio, eppure, sta facendo una bella sfumatura, io non voglio un trucco occhi troppo intenso oggi, devo uscire, giorno, c'è il sole, non voglio esagerare, perché, insomma, sotto il sole, mi piace un look un po' più soft, i colori sono sfumati benissimo, potrei andare a intensificare, ma a me va bene così, adesso andiamo con, proviamo, Serene, a tutta palpebra, e poi al centro, scusatemi, ci andiamo a tamponare un po' di halo, che è il colore più luminoso della palette, io so, ragazze, non lo so, non tutti apprezzano l'amora, forse, ma io, per il prezzo che ha, sto rimanendo scioccata, perché, in due secondi, stiamo facendo il look, non mi stanno dando problemi, il colore, questo colore, è abbastanza luminoso, vedete, bello, devo essere onesta, ma no, neanche, perché questo colore, è, anche nella palette di Natasha Denona, non è proprio sottilissimo, quindi sto dicendo questo un po' più spesso, ma, in realtà, questo colore, nella palette di Natasha, non è poi così, sottile, nel senso che, è un ombretto bello cremoso, quindi, ci sta che non sia, insomma, avete capito cosa intendo, ci sta che sia, un po' spesso, anche questo, ecco, adesso, andiamo a prendere, un po' di quartz, che è quello che abbiamo, sbocciato questo rosa, lo andiamo a mettere, nell'angolo interno dell'occhio, io sto facendo un trucco, come lo farei, per tutti i giorni, rapido, veloce, facile, è inutile, anche perché, è quello che si realizza, con questa palette, questa palette nasce, per fare dei trucchi, dei trucchi molto nude, molto rapidi, e anche all'interno dell'occhio, vedete, l'ombretto, si comporta bene, forse non ha, quei micro micro glitter, molto sottili, e molto raffinati, che c'è la palette, Natasha Denona, però ribadisco, per il costo, per me, è una palette, ottima, ecco, volevo solo vedere, se, di stratificare, un po' di questo eclipse, proprio qua, nell'angolo esterno, per vedere, se da, una bella profondità, come quello di Natasha, si stratifica, anche sopra lo shimmer, poi bisogna vedere, come si comporta, durante le ore, durante, comunque, al momento, sono soddisfatta, andiamo a mettere, adesso, questo trucco, l'ho riprodotto, veramente in due secondi, un po' di matita, un po' di matita, occhi, che è la, Smoky, tattoo liner, di Maybelline, nella colorazione, marrone, la colorazione, non c'è scritto, vabbè, non c'è scritta, la recupererò, e andiamo a fare, un po' di, di tratteggio, lungo la rimaciliare, queste matita, di Maybelline, sono veramente resistenti, le durature, e le ho comprate, su Amazon, si trovano, molto facilmente, su Amazon, anche i prodotti L'Oreal, su Amazon, si trovano, a molto meno, di quello che costano, poi nei negozi, tipo, di Gotin, di M, eccetera, eccetera, un'altra matita, bellissima, che io ho comprato, su Amazon, è questa, la Scandalize, 24 ore di Rimmel, bellissime matite, la 003 Brown, che è in realtà, più che un brown, vero e proprio, è un bronzo, leggermente metallizzato, bellissima scrivenza, bellissima tenuta, bellissima morbidezza, e anche più scorrevole, di quella di, Maybelline, a me questa piace, metterla sotto, sia all'interno dell'occhio, sia a sbordare sotto, e voilà, bellissima, un bronzo neutro, adesso con questo pennello, con cui avevo applicato lo scuro, senza prendere altri prodotti, vado un po', a muovere la pasta della matita, vado a mettere un mascara, al momento non ho mascara aperti, che ho acquistato su Amazon, c'è, mi oriento su questo, il Catrice Lift Up, che è ottimo, davvero, però questo l'avevo presa al DM, mi piace moltissimo, moltissimo, eccomi tornata, guardate che bell'effetto, che fa questo mascara, di Catrice, ragazzi, è arrivato il momento, delle labbra, dove io ho un'alternativa, al famoso, lip oil, di Red Beauty, che ho comprato, su Amazon, e che mi riferisco a questi lip oil, di Red Beauty, che si chiamano, Tinted Lip Oil, questo che ho reperito su Amazon, che ha sempre consigliato Giulia Cova, è di Romand, un marchio coreano, e su di me, tiene un po' di più di questo di Red Beauty, quindi questo, io lo preferisco leggermente di più, perché si sposta di meno, e mi dura di più, e io l'ho preso nella tonalità, ragazze, è un'impresa andare, 0-3, 0-3, sì, ve l'ho fatta, ve lo mostro, ha una texture, e adesso vi spiego, le caratteristiche di questo prodotto, questo prodotto, esattamente come quello di Rare, è un olio, per le labbra, ma che tinge, quindi ha un, è abbastanza sheer, però vedete, il colore lo dà, poi se contornate con una matita, è ancora più evidente il colore, dà una bella tridimensionalità, e lucentezza alle labbra, però cosa succede, la parte lucida, piano piano, viene via, e rimane, le labbra rimangono tinte, quindi è un effetto, anche un po' stain, questo prodotto, è un prodotto molto furbo, soprattutto nella stagione estiva, perché si applica come un gloss, però poi tinge leggermente le labbra, e quindi dà un colore, un po' più deciso, ve lo mostro nella mano, il colore, questo è il numero 3, che è un colore caldo, ovviamente sì, diciamo che è un, un rosa, intenso, caldo, questo di Rare Beauty, invece è più aranciato, quelli di Rare Beauty, mi piacciono, però mi durano meno, e li trovo un pochettino più, disomogenei, di questo qua di Roma, quello di Rare Beauty, è più aranciato, vedete, questo c'è un rosa, con una componente rossa, all'interno calda, forse questo colore, è un po' più adatto, vabbè per l'inverno, ma in realtà si può usare tutto l'anno, ma ci sono tanti colori, questo trovo che sia più omogeneo, quando lo applicate, e che mi dura di più, e si sposta di meno, quindi costa circa la metà, di quello di Rare Beauty, e secondo me vale la pena, di provare questo, anziché quello di Rare Beauty, se anche quello di Rare Beauty, a me piace, è carino, però ecco, vedete, io sono andata a rimuovere, la parte lucida, con la salviettina, anche se non ho dato il tempo, proprio ai prodotti, di tingere abbastanza, però vedete, che è rimasto l'alone, di colore, quindi, tingono, ecco, questo è l'aspetto, cioè io ci sto andando dentro, con la salviettina, ma il colore non va via, questo è l'aspetto, che caratterizza, questi prodotti, altrimenti, vi faccio vedere un altro prodotto, sempre preso su Amazon, adesso però l'ho preso ragazze, nel 2023, l'anno scorso, però devo dire, che mi piace molto, la formula, il colore è forse, un po' più adatto all'inverno, perché l'avevo preso in inverno, ed è uno di questi rossetti, glossati, che sono una moda del momento, di Ulac, un altro brand, che mi piace molto, ho provato un loro blush, mi è piaciuto, questo nella tonalità, 02 Grande Dame, mi metto poi tutto giù in infobox, il pack è carino, perché è bello pesante, è bello, insomma, è molto carino, il bullet è piccolino, vedete, sono quei rossetti un po', dall'effetto glossato, stile Beyond Jelly di Nabla, la texture è quella, non è scioglievole, glossata come il Revlon, è un po' più ferma, proprio come i Beyond Jelly, molto carino, il colore è questo, anche qui potete trovare diversi colori, vedete che è abbastanza anche pigmentato, però dà più sul marrone, per cui forse, è più bello d'estate, d'inverno, dell'effetto è questo, c'è una base colore, comunque intensa, però ha un effetto, come mi ricorda molto, i rossetti di Astra, i Madame Lip Stilo de Sheer, però quelli sono un po' più sheer, questo ha un colore un po' più presente, ma la texture è molto molto simile, è una via di mezzo, tra quelli di Astra e Beyond Jelly di Nabla, con una base colore più importante, ottimo prodotto, anche questo, anche questo l'avevo preso su Amazon, vi lascio il link giù se vi interessa, in conclusione ragazze, non ho messo cipria, perché voglio vedere come si comporta questo fondo, che è un pelo troppo caldo in questo momento, vedete che il collo è un po' più chiaro, la base mi piace, mi piace molto, è molto dui, soprattutto le guance, mi piace moltissimo questo prodotto, ve lo consiglio, soprattutto pelli maturi, pelli secche, è il prodotto per voi, guardate che effetto rimpolpante, che dà alle guance, devo però dirvi che non si setta, rimane un pelo appiccicoso, non è che si appiccitano i capelli, però non è asciutto, ecco non siete perfettamente asciutti come sensazione, in generale il fondotinta è piuttosto idratante, devo provare a metterne di meno, io adesso oggi ho esagerato, perché volevo provare, volevo provare a vedere se si infila nelle rughette, al momento non mi pare proprio, però proverò a metterne un pelo di meno, però io mi sento proprio di consigliarlo, a chi ha la pelle tendenzialmente secca, perché già si capisce che questo è un prodotto idratante, che non va bene per le pelli che buttano fuori, soprattutto in estate, sulla durata e sulla resa nel corso delle ore, ci dobbiamo aggiornare, perché questa è una first impression, però la resa mi piace molto, la base oggi mi piace molto, ma che cosa dire del look occhi, secondo me è venuto fuori un look occhi, dignitosissimo, bellissimo, secondo me non siamo ai livelli di Natasha Denona, però io ribadisco ragazze, per avere il prezzo che ha, io questa palette l'ho comprata a 9,90€, per avere il prezzo che ha, questa è palette di Lamora, questa, quella la bronze, quella rosata, ma anche quella più fredda, sono palette eccellenti, cioè rispetto ad altre palette di brand tipo, che ne so, L'Oreal, Revlon, Rimmel, che costano anche di più, molto di più, che costano sui 20€, io queste le trovo più performanti, quindi se cercate una palette con il range di toni, di Natasha Denona, insomma della I Need a Nude Palette, io ve la consiglio assolutamente, io ci ho fatto questo look, cioè questo l'abbiamo fatto insieme, questo l'ho replicato in un nanosecondo, i colori si sono sfumati bene, non hanno fatto macchia, si sono sovrapposti senza miscelarsi, secondo me si è comportata divinamente, io davvero sono impressionata, che a un prezzo così piccolo, un'azienda ci abbia portato, questi prodotti così validi, così come anche le altre palette, certo, se ve lo potete permettere, di spendere 70€ in una palette, io vi consiglio quella di Natasha Denona, perché è un pelo più sottile, un pelo forse più, ma neanche pigmentata, non si può parlare di pigmentazione, forse più elegante come texture, solo questo, ma è un pelo, ma soltanto chi vi guarda da vicino, chi ha un occhio clinico, se ne può accorgere, ok, nel complesso, i look che potete riclearle, sono quelli, se non avete grosse pretese, se non siete super fissate, con le palette di Natasha Denona, o con la qualità delle palette, se vi interessa il giusto, spendere sulle palette, o se non potete, perché non tutti possono spendere quelle cifre, non volete spendere 70€ in una palette, di Natasha Denona, ma vi piace lo schema colori della Inidia Nude, ragazze, questa, io ve la stra, stra consiglio, veramente stra consiglio, facile da usare, i matti nella piega, si sono sfumati bellissimo, l'angolo esterno è stato intensificato benissimo da questo, che comunque ha una bella intensità, guardate, cioè io l'ho appena sfiorato, anche questa ragazze si conferma pazzesca, per costare 9,90€, io dico solo questo, wow, ok, provatela, e poi mi sappiate dire, un bacio grande, scatenate l'inferno nei commenti, e fatemi sapere cosa pensate di questi prodotti, se il video vi è interessato, se vi interesserebbe che io proponessi più spesso questo tipo di video, un grande bacio alla prossima, ciao!